Gli effetti sulla qualità dell'azione giudiziaria riscontra la positività delle prime sperimentazioni di questo istituto e anche ieri in Cassazione è stato sottolineato che si riscontra una riduzione di pendenze e di durata dei processi civili e penali. Io rinvio alla relazione scritta, voglio qui mettere in evidenza l'impegno corale nel distretto a valorizzare le attitudini e le competenze di questi giovani laureati. Inoltre, rispettando le raccomandazioni europee di implementare la digitalizzazione dei servizi diverse sono state le nuove modalità informatico-tecnologiche di lavoro che sono state adottate. Con una lunga relazione della Presidente della Corte d'Appello di Salerno, Iside Russo, percorrendo i dati dell'amministrazione della giustizia dell'anno appena trascorso, si è aperto questa mattina l'anno giudiziario del Tribunale di Salerno. Un quadro in chiaro scuro che conferma la tendenza della giustizia degli ultimi anni, dove emergono molte valutazioni che portano ad assistere ad un lento ma progressivo miglioramento. La durata dei processi civili e penali, la digitalizzazione dei processi, le tecnologie valide e alleate del settore giustizia, l'incidenza dell'efficienza degli uffici giudiziari, il potenziamento delle risorse umane ed informatiche, i numeri della giustizia civile, penale e minorile, le inchieste e i risultati conseguiti sono alcuni dei punti sui quali si è soffermata questa mattina la Presidente della Corte d'Appello di Salerno, Iside Russo, introducendo l'Assemblea Generale per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale di Salerno. Continua il processo di riduzione del contenzioso, tanto civile che penale. Resta il vuoto nelle piante organiche dei magistrati. Ne mancano 1.458, ma il vuoto si caratterizza anche nella pianta organica del personale amministrativo. Un sottodimensionamento strutturale dell'organico che si riflette anche nei tribunali di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania. Io credo, e mi rivolgo direttamente al collega Caggiano, che è rappresentante del Ministro in questa Assemblea, che il Ministero debba valutare l'opportunità di stabilizzare gli addetti. Certo, il numero di 16.000, quanto sono quelli assunti fino al 2026 con contratto a tempo indeterminato, mi pare incompatibile con le risorse finanziarie, ma si potrebbe selezionare tramite ulteriore concorso tra coloro che sono stati assunti a tempo determinato. Ripercorrendo i dati della giustizia penale, la Presidente della Corte d'Appello di Salerno, Iside Russo, non ha trascurato le inchieste avviate dalle forze dell'ordine, segnalando allo stesso tempo un salto di qualità della criminalità organizzata con riferimento al territorio nazionale, ma anche su scala internazionale, con collegamenti con paesi come la Siria, la Svizzera, la Libia, la Arabia Saudita, infiltrazioni della criminalità nel settore economico-finanziario, che hanno permesso di dimostrare un peso importante dell'economia dei clan alla lotta all'usura, allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la provincia, con una particolare rilevanza nell'agronoce di Nosarnese, nell'area portuale commerciale del molo trapezio di Salerno, utilizzata come hardware dei traffici illegali internazionali destinati a tutta Europa. Grazie a tutti.